Siamo con Marco Farotto, il consigliere delegato alla cultura che sta organizzando da diversi mesi la mostra Agora. Marco, dopo che dal 2007 si era svolta la quattordicesima edizione, Agora non era più tornato se non l'anno scorso, aspettando Agora una anticipazione di quello che hai preparato quest'anno. Quanti artisti, in cosa consisterà questa mostra, c'è anche un catalogo? Sì, l'anno scorso in forma ridotta perché l'abbiamo saputo 15 giorni prima, però non abbiamo voluto rinunciare. Quest'anno, l'anno scorso erano 35 artisti, quest'anno siamo arrivati a 41 e abbiamo dovuto lasciare fuori gente che arrivava da tutta Italia perché gli spazi sono quelli che sono, ci sono dei limiti nell'accoglienza degli artisti. 41 artisti, 28 sono pittori, 8 sono artisti della fotografia, 5 scultori e verranno ubicate le opere, alcune nell'oratorio di San Bartolomeo e dobbiamo ringraziare Don Luca che gentilmente ha collaborato con noi nell'organizzazione dandoci questo splendido locale. Poi Piazza del Popolo, Piazza Padre Giacomo Viale, il locale sotto l'ospizio a nord di Piazza Padre Giacomo Viale che quest'anno accoglierà una mostra personale dell'artista Pietro Pezzotta, ogni anno a un artista deceduto verrà data la possibilità, un ringraziamento, un riconoscimento. Questo uomo realizzava solo paesaggi di bordighera e verranno esposte circa 10 tele. Poi in Piazza del Piano dove l'anno scorso avevo inserito 22 sculture di cammi e quest'anno non si è voluto toccare, quelle di cammi verranno spostate in modo definitivo quando sapremo dove inserirle. Due sono già state messe in comune, cinque verranno messe nella nuova piazzetta che si realizzerà al posto del lavatoio vicino al Giardino Incantato in Arzilia e le altre appena troveremo gli spazi idonei perché 17 sono state restaurate quest'anno. Lì invece ci saranno delle sculture in legno di artisti del legno e un grande maestro della lavorazione del legno si esibirà ogni sera davanti al pubblico. Dopodiché ci saranno opere sparse un po' dappertutto. Nei Carugi metteremo una ventina di opere di tele e dei tessuti a colori del maestro Giustino Caposciutti di Torino e quindi ci saranno colori e opere in ogni luogo. Davanti al portone dell'ex ufficio tecnico in faccia all'ingresso della chiesa della Maddalena ci sarà per quattro sere di seguito un laboratorio di arte partecipata con due artisti, due maestri che daranno una mano al pubblico per dipingere su tela con colori e poi le opere verranno esposte. Quest'anno è stato realizzato anche un catalogo che tra l'altro inizia con un quadro, la copertina raffigura il quadro di una balena, non è scelto a caso? No, noi abbiamo il Santuario delle Balene che sta curando, portando i visitatori, la dottoressa Sabine Iroldi. Siamo Plastic Free, uno dei pochi comuni in Italia, quindi ho voluto dare un'impronta ambientalista anche alla mostra Agorà. Quindi oltre alla presentazione del sindaco e alla bellissima introduzione critica di Stefania Socciu che ha curato la presentazione critica di tutta la manifestazione, poi prosegue l'assessore Baldassare con Plastic Free, Sabine Iroldi parlando del Santuario delle Balene e Gabriele Buratti che collabora con Sabine Iroldi e si occupa della salvaguardia delle specie in estinzione, emetterà quattro opere. Dopodiché il catalogo continua con tre pagine dedicate a Pietro Pezzotta e poi ogni artista avrà una pagina con le note biografiche e una foto di un'opera. In fondo sono riassunte le manifestazioni musicali, artistiche collaterali e quindi quest'anno ci sarà anche questo libro, perché più che un catalogo io direi è un libro perché è 64 pagine, più copertina plastificata, tutto a colori, su carta patinata da 170 grammi, la copertina da 350, che verrà data in omaggio a chi lo richiederà, agli appassionati, agli addetti ai lavori e agli artisti che partecipano. Avete pensato anche a turisti che ovviamente magari per la prima volta arrivano a Bordigeralta, non conoscono i carugi? Sì, abbiamo pensato di inserire nel percorso espositivo delle indicazioni tramite delle piantine plastificate del centro storico che indicano il percorso che si deve seguire.